Perché faccio delle pause mentre rispondo? Questa è la domanda di Anna che si aggiunge a tante altre domande di tante altre persone che mi dice Ho la percezione che le tue pause sono perché tu ascolti le risposte che ti danno ciò che noi non vediamo e che tu invece vedi e senti E' così? Qualcuno dice ma perché non guardi dentro la telecamera? Perché guardi da altre parti ma guardami quando parli La realtà è che qui c'è uno schermo, un buco e mi sembra un po' demenziale oltre ad essere innaturale guardare dentro un buco sicché guardo la natura, guardo intorno, guardo il mondo visibile e il mondo invisibile Faccio delle pause perché per costituzione percepisco la realtà maggiormente attraverso i sensi quindi quelli che vengono definiti cinestesici le persone recepiscono la realtà da forme diverse quindi c'è chi percepisce la vita maggiormente attraverso la vista e vengono definiti visivi la maggior parte delle persone al giorno d'oggi sono visive anche a causa dei moderni strumenti odierni il cellulare, la televisione, eccetera quindi la popolazione sta diventando sempre di più visiva altre persone percepiscono la realtà maggiormente attraverso l'udito quindi le vedi che sono un po' piegate infatti può essere che mi vedi un po' piegato ogni tanto perché ascolto e sento sento, sento attraverso il contatto le sensazioni fisiche interne e esterne quindi invece che compiacere il fruitore di questi video vibro in maniera naturale sono ciò che sono è così, è così quindi mi connetto quando rispondo a questi video canalizzo interagisco interagisco con il mondo invisibile e offro la risposta che arriva canalizzando quindi queste sono le motivazioni le motivazioni sono la mia caratteristica la mia natura e l'interazione con il mondo invisibile che offre le risposte che ti canalizzo